Allora, la riunione, devo dire, è stata proficua perché ho registrato la totale disponibilità da parte dei tecnici di Acea a capire che nel momento in cui si entra in un sistema sconosciuto, complicato e malmesso, come quello della rete idrica della nostra città, è il caso di seguire le indicazioni che vengono date e una volta presa confidenza col sistema poi ci si regola e probabilmente lo si gestisce anche in maniera più opportuna e efficiente, quindi i tecnici di Acea sono tuttora sui serbatoi, sui punti di accumulo della città perché la rete idrica deve essere riportata in equilibrio, io penso che ci vorranno un giorno o due, però stiamo dando tutte le indicazioni del caso perché si riesca a ritornare in equilibrio, lo dico perché a differenza dello scorso anno in cui l'apporto idrico alla città stava intorno ai 160 litri al secondo, adesso ce ne sono quasi il doppio, quindi i problemi in questa entità non hanno motivo di essere, quindi con le opportune manovre e gli opportuni aggiustamenti si tornerà ad una situazione sicuramente sotto controllo, che come ogni estate non sarà totalmente priva di disagi, però si riusciranno a confinare quei disagi in poche ore al giorno e possibilmente alla notte, quindi sono confidente che per domenica la situazione ritorni sotto controllo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS